Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo di nuovo delle mie top storie Disney, le storie preferite della mia infanzia e parleremo di Topolino e l'Atlantide, il continente perduto, storia bellissima, uscita un bel po' di anni fa, in questo caso io l'ho letta grazie al numero dei grandi classici prima serie, numero 68 ed eccoci qui dunque con Topolino e l'Atlantide, il continente perduto, storia che io vi porto grazie al numero 68 dei grandi classici Disney, scritta da Giorgio Pezzini, maestro Giorgio Pezzini, disegnata da Massimo De Vita è una storia facente parte del ciclo con la macchina del tempo la storia inizia al polo sud, nella base antartica Zebra, dove due ricercatori stanno effettuando un carotaggio per analizzare il terreno posto 3 km al di sotto di una coltre di ghiaccio per poter analizzarla e capire come fosse il terreno 10.000 anni prima ma il ricercatore quando va a prendere la carota, si chiama carota, il pezzo di terreno da esaminare fa una scoperta sconvolgente che lo fa svenire praticamente letteralmente che lo fa letteralmente svenire passano i giorni e a Topolino troviamo Topolino e Peppo, i nostri Topolino e Peppo che sono stati chiamati con urgenza al museo dal professor Zapotec che ovviamente gli ha raccomandato la massima discrezione e il professor Zapotec gli racconterà anche di questa scoperta particolare che è stata fatta a 3.500 metri di profondità e anche egli prima di spiegare a Topolino e Peppo cosa è stato scoperto sviene per l'emozione dopo poco tempo egli rinviene e mostra a Topolino e Peppo cosa è stato trovato ovvero una moneta d'oro una moneta d'oro nei ghiacci dell'Antartide nei ghiacci del Polo Sodo cosa che dovrebbe essere impossibile vediamo anche che è raffigurata un re evidentemente con una lingua sconosciuta questo re che assomiglia a qualcuno a qualcosa di familiare questa effigia che però sia Zapotec che Topolino non riescono a capire a chi possa somigliare questo re è difficilissimo davvero è stata anche analizzata la moneta e praticamente a parte che il ghiaccio si sa con certezza che è stato formato più di 10.000 anni fa la moneta anche è stata analizzata col carbonio 14 e risulta che sia proprio di quell'età sono stati analizzati anche altri materiali presenti nella carota di terreno prelevato che hanno evidenziato come ci fossero anche materiali e minerali che facciano presupporre che il Polo Sud anticamente fosse una zona ricca di vegetazione ed al clima temperato Topolino si chiede come possa essersi congelato tutto e Zapotec spiega che una soluzione potrebbe essere l'inversione dei poli magnetici cosa che è già avvenuta molto tempo prima vediamo i disegni quindi dei vite che sono spettacolari parla anche dell'estinzione dei dinosauri e niente per svelare questo mistero ovviamente i nostri eroi dovranno utilizzare la macchina del tempo grazie al professor Merlin i nostri eroi si metteranno delle pellicce e così inizieranno il viaggio atterreranno su un albero quindi è la conferma che nell'Antartide di 10.000 anni fa c'era una foresta e addirittura dei campi coltivati che può notare il buon pippo Topolino nota anche che il sole è molto alto è splendente mentre al Polo Sud il sole dovrebbe trovarsi basso sull'orizzonte e quindi capisce che c'è qualcosa che non quadra poi subito dopo notano che in lontananza c'è una mega città una città grandissima una vera e propria metropoli nel frattempo sta per arrivare della gente che riconosce pippo però pensa che sia in incognito come al solito quindi già iniziano a notare che pippo assomiglia in modo anzi che in realtà pippo per loro è il re di questa metropoli che si chiama re Hoppep quindi Topolino nota pure che finalmente nota strano come la cume di Topolino si sia svegliata così tardi nota che pippo è identico alla persona raffigurata sulla moneta e quindi proseguono il loro viaggio e notano che disseminate qua e là per tutta la regione ci sono un sacco di barche e navi di legno qui Topolino dice che comunque la città è molto lontana dal mare quindi è strana questa presenza di navi e l'Antartide comunque è un continente quindi non dovrebbe essere un popolo di navigatori questo grazie all'espediente della somiglianza con il re Hoppep riescono a infiltrarsi nella città fino a raggiungere il palazzo reale dove fanno proprio conoscenza con il re il re si pone abbastanza fiducioso nei confronti di Pippo e Topolino nonostante all'inizio li abbia scambiati per delle spie però grazie anche alla faccia da tontolone che ha il buon Pippo che gli è simpatico decide di fidarsi di loro e dice anche che prima o poi si ricorderà a chi assomiglia così il re srotolando il rotolo della saggezza parla di una leggenda che dice che il dio Ishtarà, stanco della malvagità dei uomini mandò la palla di fuoco e si aprirono le cataratte del cielo e piove, piove finché le acque coprirono la terra intera e dove era la terra? fugghiaccio e viceversa segno di questa catastrofe che dà certezza a Reope perché si verificherà davvero è grazie al suo osservatorio che lui riesce a trovare questo asteroide chiamato Baal che sta per avvicinarsi pericolosamente alla terra quando la palla di fuoco ci colpirà una grande ondata si leverà dall'oceano e sommergerà ogni cosa coste e isole scompariranno e la stessa Atlantis sperirà tra i flutti solo le navi potranno salvarci quindi è la prova che Topolino e Pieppo si trovano ad Atlantide ed è anche la prova che un diluvio o un'ondata, una grande onda decreterà la fine di questo popolo poi qui finisce il primo tempo dopo che il re Opep ha detto anche che c'è il suo vice che si chiama Umm che non desidera altro che spodestarlo e subito dopo vediamo che il vice Umm è proprio in procinto di rapire il re Opep per poter spodestarlo e prendere il trono al suo posto in questo caso Pippo e Topolino cercheranno di difendere il re ma non ci riusciranno subito e noteranno che il meteorite si sta avvicinando molto velocemente alla terra quindi avranno bisogno del re che dovrà far evacuare la popolazione e quindi il buon Pippo si travestirà dal re per poter permettere a Topolino di guadagnare tempo e di liberare il vero re Opep quando Eli riuscirà a liberarlo vediamo che il meteorite è quasi arrivato sul pianeta l'asteroide sta ormai attraversando l'atmosfera terrestre il re ha fatto evacuare tutta la popolazione facendoli salire sulle navi e fa salire sulla sua nave personale anche Topolino e Pippo e in qua ragazzi siamo a un punto elevatissimo del fumetto italiano perché vediamo il meteorite che colpisce la terra con la sua mega deflagrazione vediamo una colonna di fumo alta centinaia di chilometri e poi guardiamo l'onda gigantesca che spazzerà via tutto vediamo anche questa bellissima splash page che davvero è fenomenale con Topolino che dice che esperienza ragazzi stiamo assistendo in diretta alla fine di Atlantide vediamo che tutto verrà distrutto e notiamo anche che il clima inizia subito a peggiorare così Topolino fa una constatazione ovvero che l'asteroide è stato la causa di tutto il suo urto è stato così violento da provocare lo spostamento dell'asse terrestre così che Antartide che si trovava più o meno lungo la linea equatoriale adesso si ritrova al polo sud e viceversa tutti gli altri continenti si sono spostati e quindi questo inverno farà estinguere un sacco di animali preistorici vediamo addirittura le ossa qua e ci sarà anche un esodo da parte sia degli animali che delle popolazioni vediamo che poi i nostri eroi scorgeranno il punto dove sono atterrati e si faranno lasciare lì per poter ritornare nel presente una volta arrivati nel presente spiegheranno ai professori quello che è successo e così anche Zapotec giunge alla conclusione che gli abitanti di Atlantide una volta finito il disastro si sono spostati in ogni parte del mondo dal Messico per costruire le civiltà maya sulle ande a costruire l'impero inca fino ad arrivare in Mesopotamia e in Egitto e quindi ragazzi questa è la fine di Atlantide una storia questa dal sapore molto Martin Misteriano potremmo dire ed è una storia che mi è piaciuta davvero tantissimo e mi è rimasta impressa ma io penso che sia rimasta impressa a chiunque l'abbia letta il mito di Atlantide verrà riproposto anche successivamente sulle pagine del Topolino grazie a Casti e Giorgio Cavazzano ma per adesso noi ci soffermiamo su questa storia che è davvero bellissima io spero che questa storia vi sia piaciuta con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao